Alla huakbar a tutti bro Oggi continuiamo con Battlefield 3 Cecchino, anzi se non lo so che se lo potremmo fare Palazzo Azadi Non credo Vabbè comunque praticamente vi spiegherò invece un po' le altre classi Se non si può fare con il cecchino Quindi niente Subito buttiamoci nella mischia Questa è modalità corsa ricordiamola Infatti no Brutto per il cecchino, brutto post Ci dobbiamo provare Iniziamo a vedere un po' com'è la situazione Poi casomai Allora Aiuto Non mi ricordo Non giocavo tanto da Battlefield Non facevo un bat Ecco Crizzo Cribbio Questo popolo a morte Dove sei il pezzente di merda israelita? Mi sparano Boom Aiuto Dove cazzo Ma era un nome di miei Ahia 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 da dietro Lo sapevo da dietro Lo sapevo sempre da dietro Oh no Spara lo mazzalo Giocatore oremio Anch'io ho acquistato il premio Grande Non ho rianimato Accetto la rianimazione Brutto pezzente Da dietro Da dietro Accetto di nuovo la rianimazione Aia con sta luce di merda Madonna Ma che Cribbio Dai Ma questo mi ha rianimato Tipo dieci volte Altro che Gesù Cristo Dai 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 L'ho visto morto C'è proprio il davanti Madonna santa però Uffa E' un'altra volta Sembro veramente Gesù Cristo Dove siete Bastardi Proprio merda sto facendo Merda Pure un carro armato ci sta Cioè sono disorientato proprio Non l'ho mai fatta sta mappa A parte che Magari quello è un buon posto Cazzo Si poteva fare quel cecchino Dopo lo mettiamo Ah E' amico Muori finalmente Colpo alla testa pure Cioè io sparo Aiuto Mi sparano Ah è amico Tutto amico Quanto vengo in vita? 37 Uff Dio E' proprio La guerra Eh madonna Cioè ma pure sta cosa fa schifo proprio Bipode che tiene questo Dai 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 Io provo Io provo Io provo Dai 3 2 1 Via schierati Ecco Popo pom 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 Ma dove siamo Abbiamo perso l'obiettivo Oddio quanti Ma tutti pelati sono Allora come sempre il cecchino Noi ci dovremmo mettere qua Anche se ho avrò perso Oh cazzo Madonna mia Stiamo proprio Prendendo le palliate le paliate proprio le paliate proprio dai madonna che mappa di merda oh che ha da faccio io ma che coltellino porca di quella puttana mignotta mi devo appostare da qualche parte inutile inutile ma chi è? pelato ti pelati qua l'avevo preso come ha fatto a non morì questo ma che puttana troia grazie al cazzo tu tua madre eh sono un medico anch'io sono un medico di sto cazzo però non iniziano le bestemmie qui mi metto qua mi faccio proprio abbassati in culo a te magari qualcuno che sbuca da là là invece c'è il ma che ti metti col bipode che cazzo sopra un coso di merda c'è proprio la mappa più merda di queste non poteva ma col bipode tre ore no 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 bestemmiar non fa per noi tra la 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 perché 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 ragazzi mi dispiace ma qui proprio cecchino non va cioè o sei un pro o sei un pro però io non sono un pro ma come fa a non morire boom colpa alla testa proprio vaffa buchini ho perso proprio la mano chi è lì boh ste case senza uscita muri 4x4 dentro squadra vicina a te ma che casino no disinnescatela ma come fanno a morire una carica una carica una carica una carica io ho buttato addosso una carica c'è porca di quella mignotta che devo fare più lo devo crocifiggere proprio lo devo crocifiggere dio 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 ma che casino ok crepa crepa uh dio tirianimo aiuto ai 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 dai mostrati mo 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 mostrati certo che tengo una mira per... eccolo là guarda 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 guardati con lo spas da lontano con lo spas da lontano mi sono scelto proprio una mappa di merda che più merda non si può che più merda non si può che più merda non si può quanto sto facendo carica sui bombetti 2.5 ho pensato peggio lo sai sono morto tipo circa 20 volte e quelle quindi certo che arma di merda proprio questa eh c'è una... una sparaligna proprio donna ma da dietro mmmm ma mai che mi capita uno che spara da dietro ma che cazzo non si capisce più niente morti ovunque stiamo buscando come le merda oddio dove sono finito ma crebio benedetto dove sono... no sta mappa non la concepisco proprio cioè dieci morti qui sotto ma fa... che si futta la... ma come fa? non muori muori ah non me ne fu... no vabbè non è possibile veramente io ho sparato un caricatore addosso questo cioè ma... ma... minchia sono io che faccio schifo allora proprio si, cioè faccio io schifo che non lo riesco a uccidere da 2 metri ufff ma mi piglio questa cioè io... mo... mo... mi son rotto le palle piglio questa ma perchè da dietro? madonna... ufff popola ma... guarda questo mostra il tuo viso in culo a tua madre che te lo venga a tagliare quel viso ci faccio proprio un... minaccia... la puttana troia ah... dove siete? attenzione carica piazzata dal nemico eh... fa che esploda così finisce sta mappa di merda ce ne andiamo tutti mostrate il vostro viso ma non ho una bomba ma si è incastrato il co... no si è incastrato... madonna... sparatemi da dietro mamma mia meno il mega bestemmione dell'anno vaffan mo... no non caricare! non caricare eccolo la di spalle cioè al primo che mi uccide davanti gli faccio un pompino, guarda perchè non è possibile tutti di lato, da dietro, in culo a voi e ai vostri figli se ne avete eh... la sagra del capodanno cinese sembra si fa neppure il paracadute da 5 metri il paracadute tua madre ecco. eh... 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 nello fa, boh-bu, boh-bu, boh... minchia, minchia oh goh là, sono vivi ho salutato il potere del defibrillatore Dai, finisce sta mappa Ma dove sta? Stanno qua dietro Stanno tutti qua dietro Boh Io non la capisco sta mappa Eccolo Ma perché quando io devo uccidere Ma dove cazzo? Bazzica Ho piazzato la carica, pazzo Che malo bomba di merda, come spiegare le bombe Guarda quello Ma che sta facendo? Oh, cribbio Ah, sta salendo proprio Ma dove stanno tutti? Cazzo, abbiamo perso l'obiettivo, pazzo! Che sta fa? È finita sta mappa Spera, non ho più bombe Ma che sta facendo? Boh Non ho più idea, proprio non ho idea Invece di salire per qua, quest'idiota Dentro la squadra, vicino a me Ma dove li vedete? Da dove arrivano? Muore, la gente muore così? Massa, te la figlia di puttana No, vabbè, non muore, non è possibile Ma perché da dietro mi... Perché non muoiono? Io muoio in due secondi, un proiettile nel culo e già sono morto Pupo merda, va Pupo merda Pupo merda Fammi nascere, non cagateca Sono vivo Sono vivo Ma io ho un laser Chi è che mi ha puntato un laser nell'occhio? Ho rotto in culo C'è quella troia, va Ma dove? Dove? Madonna Schimba proprio Ma che fa? Mamma mia Datemi l'igenere Datemi il supporto Tu 4C4 la gli faccio esplodere la capa Crepate Crepate, merda Crepate Quando guarda, guarda, guarda Dio ce l'ha con me Dio ce l'ha con me Porca di quella mignotta rotta proprio Le mignotte rotte La sfaccimma proprio La sfaccimma È finita sta merda di mappa Non ne posso più Dove siete? Figli di puttana Cribbio maledetto Oh E vai Suicidio proprio colto Proprio bellissimo Che me ne fotte Veicolo distrutto Ucciso 10 persone Proprio mi sono Sacrificato Per Allah Allah Huakbar dovevo fare però Ancora non è finita Ancora non è finita Cioè questi ci stanno facendo il culo Ancora non è finita Sta mappa brutta Sta mappa brutta proprio Sta mappa merdosa proprio Ripiegare 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 Iocano non è finita Iocano 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 Questo significa Sacrificarsi per Allah Ragazzi proviamo Un'ultima volta il cecchino Che postazione di merda Ormai siamo tutti qua Bim che strage Anche se quell'altro Edificio era meglio Ho visto una capocchia pelata Dai dai Ma no non vedo a nessuno Sto diventando cieco come Proprio come Come la Befana Ma smossano tutti di là Cribbio maledetto Ma che cazzo Mi incastro pure della merda Madonna Eh ma Tre ore per me Va Bim boom va Qualcuno mi spara Eccolo Qualcuno mi spara Però mi ha acciso frontalmente Spero se non mi girò La verrà sempre da dietro Tu brutto vietcong di merda Sono vivo Adesso fight and good and act Mamma mia Mamma mia Mi sa rodato Gesù Sto prendo da qua Ci deve essere qualche bastardo Che passi no Un povero ignaro Dov'è Ah qui sotto Tieni per all'a Mostrati Ma perché Ma perché mi vi intromettete Quando io sto cercando Di uccidere a uno Puttana di quella merda Muori Muori Devi crepare Non è morto Sempre lo stesso Vietcong di merda Niente Niente Qualcosa Non va Bum Distruggetela E' finita sta partita Mi sono rotto le palle Stama Ma che cazzo Si che bello Shalakalaka boom Devo fare per all'o E vai Cioè per là di nuovo Per là per là Boom no niente per là Non ha funzionato Demonio argento Quello come si chiama demonio argento Suicidio in corso Suicidio in corso No nel corno armato non ci voglio stare Boom Prendete le munizioni E qui ci vuole per là Per là no No stavo per putt No non ci credo No la facevo una stratice di 18 persone però Peccato peccato Però fare la adesso Però mi voglio sacrificare per la patria Quanto sto facendo? 9.16 Però le ho fatte 9.16 Aia Boom Me l'ho fatta esplodere E finisce qua finalmente Sì abbiamo perso finalmente Però se non era per i miei suicidi tattici Perdevamo ancora di più Va bene ragazzi Il terzo episodio anche se merdoso proprio Perché io non giocavo a Butterfield da un secolo Ma questa non è una scusa Però ci riprenderemo presto Ricordatevelo bene Quindi Ricordate di iscrivervi Per E diventare Bro I want you Tipo lo slogan che c'era Per l'esercito I want you And Become a bro today ragazzi Scrivetevi Mettete mi piace E Soprattutto Non perdetevi i prossimi video Su Appunto Battlefield Quindi Quindi Niente Niente Proprio Al prossimo video su Battlefield E Ricordate di iscrivervi E diventare Bro Ciao ragazzi